lumino metallico con candela interamente in metallo gancetto per appenderlo estraibile e fissabile la candela al suo interno viene sospinta da una molla man mano che la candela si esaurisce verrà sempre più sospinta verso l'alto da questa molla candela a 3 cm circa di facile sostituzione reintegrabile con una normalissima candela in commercio tagliandola questo è rincastrabile ha delle fessurazioni per cui entra dentro e si mette a innesto lo stesso dicasi di questa parte qua che è sempre incassabile la parte superiore è apribile tramite questo sportellino è apribile e possiamo notare i forellini per dissipare il calore è facilmente chiudibile in se stessa la parte sotto è un polimero il resto è tutto lamierino giuncato un lumino semplice pratico tascabile e facilmente rigenerabile l'entorni ti guarda puoi ... puoi